Sono Maria Chiara Maestrini, sono candidata nella lista per Sesto Bene Comune e sostengo Maurizio Quercioli, sindaco. Vivo a Sesto dal 1990 con la mia famiglia e in questi anni ho studiato, ho lavorato, mi sono laureata e ho avuto due figli. In tutto questo tempo ho visto Sesto cambiare molto, da un certo punto di vista peggiorare tanto per tanti aspetti della qualità della vita. Ho visto una Sesto che perdeva anche coesione, perdeva anche luoghi di ritrovo e poi sono arrivate le due minacce maggiori per la mia città e per il futuro dei miei figli, l'inceneritore e un po' dopo anche l'aeroporto. Io mi sono sentita chiamata in causa e ho deciso di impegnarmi in prima persona. Ho cominciato a girare dei documentari insieme a Serena Terzani e ho conosciuto Rossano Ercolini. Rossano Ercolini ha dato una svolta particolare alla mia vita, mi ha fatto capire che quello che pensavo sull'impegno civico delle persone era importante. Ho capito che la carica di ogni singolo cittadino e il suo impegno in prima persona possono veramente cambiare le cose. Da questo punto di vista penso di aver fatto la scelta giusta e che sia importante che ognuno di noi dia il suo contributo per il futuro di Sesto e per il futuro delle nuove generazioni. Certo, a Sesto non c'è solo il problema dell'inceneritore dell'aeroporto, ce ne sono tanti altri. C'è la necessità di pensare a un tipo diverso di economia, l'economia circolare, collegando anche la nostra città alle grandi risorse che ci sono nel polo scientifico che è vissuto come qualcosa di estraneo, dislegato dalla realtà sestese e questo è uno sbaglio enorme, grandissimo. Poi dovremo anche ripensare a riportare a Sesto i valori della cultura e dell'impegno sociale. Se noi lavoreremo pensando fortemente a questi valori potremo veramente creare una realtà nuova a Sesto fiorentino. Ma prima di tutto no all'inceneritore e no al nuovo aeroporto per fare il parco della Piana e salvaguardare le oasi che abbiamo nel nostro bellissimo territorio che tanti cittadini ancora non conoscono, non sanno le bellezze che ci sono e che vanno valorizzate e tutelate per il futuro. Votate Maurizio Quercioli, sindaco e la nostra coalizione.